Un saluto e ben ritrovati agli amici di Trebi Meteo ad un nuovo appuntamento previsionale. Nella giornata di lunedì la graduale rimonta dell'alta pressione da ovest favorirà su gran parte della nostra penisola bel tempo prevalente, salvo locale instabilità atmosferica sulla Sicilia. La nuvolosità sarà presente e compatta specialmente al nord-ovest poiché affluiranno correnti umide sud-occidentali. Sarà inoltre presente sulla Sicilia centro-orientale con anche la formazione di piogge e rovesci sparsi, un pochino più concentrati sull'area ionica. In definitiva ci attende un lunedì con tempo discreto su gran parte del territorio tempo stabile e soleggiato. Come anticipavo, nubi un pochino più compatte al nord-ovest con anche più vigini in mattinata, si svilupperanno nuove piogge e rovesci sulla Sicilia centro-orientale. Il contesto climatico è in linea con il periodo, i valori massimi saranno compresi fra 18-20 gradi, il clima sarà invece più freschino nella notte e al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più restate aggiornati sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.